buongiorno anzi buon mattino direi visto che sono le 6 come si vede dall'orologio qui in fondo oggi si parla di formattazione di un testo esercizi di formattazione di un testo fanno parte di una serie di esercizi sulla videoscrittura su un corso di base di videoscrittura allora intanto preleviamo il testo dell'esercizio andiamo sul sito LaceProf i miei alunni lo trovano anche nella propria cartella personale ma pensando ad un uso più allargato si può ricorrere appunto a questa risorsa in internet entriamo in LaceProf e digitiamo formattazione cerca nel sito e a breve dovrebbe apparire l'elenco dei file che contengono questa parola qui un po' lento oggi ecco il primo quindi lo apriamo ci verrà chiesto se vogliamo salvarlo o aprirlo semplicemente consiglio di salvarlo sul desktop e poi portarlo alla propria cartella personale quindi salva e mettiamolo sul desktop consentiamo e lo apriamo con un doppio clic ci vuole sempre un po' di tempo ma eventualmente questi tempi morti li taglio in fase di post produzione con MovieMaker così non daranno fastidio metto in pausa un secondo bene, cominciamo a leggere le istruzioni alcuni comandi, soprattutto per gli ultimi per i quali bisogna usare la barra dei menu sono più difficili di altri se non sai come fare, passa ai successivi seconda istruzione se fai qualche errore è sufficiente cliccare anche più volte il pulsante blu annulla che è qui su, uno di questi a forma di freccia rivolta verso sinistra quindi questo qua prima istruzione inserisci prima di questa riga un'interruzione di pagina con i tasti CTRL più invio mi posiziono qua col mouse e facendo CTRL più invio ottengo l'interruzione di pagina vedete c'è anche scritto e andiamo avanti seleziona questa frase e scriverà col carattere simbol parto dalla fine, io almeno mi trovo meglio così e scelgo nella barra di formattazione che è questa e che conosceremo a fondo perché andremo a toccarne tutti i pulsanti comunque nel font devo andare a cercare sono in ordine alfabetico quindi è il simbol allora RS eccolo qua bene, avanti seleziona questa frase e scriverla con dimensione carattere 22 si potrebbe selezionare in questo modo andando su poi tornando indietro vedete però è una cosa un po' lunga io preferisco puntare il mouse dove c'è appunto la fine della selezione schiacciare il tasto maiuscole cioè SHIFT ripuntare all'inizio ed è ottenuta la selezione che cercavo seleziona questa frase e scrive che è un carattere 22 allora 22 mi è già dato e l'ho fatto rifaccio la stessa cosa sempre con il carattere SHIFT ma devo portare a 25 come mi viene spiegato in questa istruzione quindi seleziono e qui digiterò direttamente 25 più il tasto invio nella barra relativa andiamo avanti seleziona questa frase e scriverla in grassetto questo è facile eccolo là questo è in corsivo tasto maiuscole selezione corsivo poi posso andare qua e faccio sottolineato per selezionare una riga intera come in questo caso basta andare nella cosiddetta BIS vedete che il mouse sta scambiando diventa una freccia cliccare e automaticamente viene selezionata tutta la frase portarla in centro eccolo qua seleziona questa le righe precedenti inserisci una interlinea doppia l'interlinea è appunto lo spazio tra le righe vado qua vado fino qua e uso questo pulsante ecco vedete che lo spazio è aumentato se la cosa non fosse possibile perché ci sono vecchie versioni di Word e questo tasto non c'è si può fare in modo diverso cioè sono tornato indietro vado sulla barra degli strumenti anzi su scusate sbarra formato vado su paragrafo e proprio qui scelgo lo stesso comando non minima doppia ecco ed ecco ho ottenuto lo stesso risultato andiamo avanti seleziona queste le righe precedenti e l'avevo fatto seleziona questa frase scrivila con un rientro di un centimetro allora per selezionare una frase posso fare così come si soliti fare però posso anche con un doppio clic quindi non un singolo doppio clic sulla barra invisibile ottengo tutta la selezione fino alla caporiga che è segnato da questo simbolo là allora doppio clic rientro in un centimetro qui bisogna stare attenti a non toccare troppe cose essere precisi e toccare solo il triangolino seleziona la parola stampa doppio clic e premiamo il tasto delle maiuscole e il tasto F7 come c'è scritto là ed otterremo il vocabolario online che si chiama Tesaurus e lo sostituiamo con la parola a riproduzione cliccando qua inserisci e abbiamo fatto il nostro esercizio seleziona queste le seguenti quattro righe numerale quindi tutte e le numero con questo tasto qua anche questo e le segni puntati e rientrati ecco qua si può anche lavorare no qui diventa ecco così insomma si può lavorare su questi tasti per aumentare o diminuire lo spazio rientrato seleziona questa fase e scrive tutto in maiuscola allora così il tasto del maiuscole me lo sono portato qua a suo tempo quindi basta cliccare qui e fare tutto in maiuscole se non ci fosse torniamo indietro con annulla devo andare su formato maiuscole minuscole e fare di nuovo tutto in maiuscole seleziona questa frase sposta alla prima riga con i due pulsanti della barra di formatazione taglia e incolla allora la seleziono la barra di formatazione è questa in realtà quella di formatazione è questa qua questa si chiama barra degli strumenti degli strumenti e basta taglia questo lo facciamo sparire che per ora non mi interessa e andiamo su all'inizio ecco qua ci posizioniamo nel punto corretto magari facciamo una capo e facciamo incolla ecco la portata là torniamo in giù dove eravamo prima seleziona questa frase e trascinala alla prima riga mantenendo il pulsante del mouse premuto vado su quindi il secondo metodo per spostare ecco lo metto qua e ci siamo torno in giù a vedere la prossima istruzione e siamo qua clicca su un qualsiasi punto di questa fase e scrivi dopo i due punti il nome del carattere con cui è stata scritta clicco qua vedete che qui c'è scritto il tipo di carattere cioè KULZ MT MT seleziona queste le prossime due righe e colora le lettere di viola in base al seguente procedimento ok il procedimento lo lascio leggere a voi ecco qui il viola seleziona questa frase ed evidenza di azzurro è questo tasto qua azzurro seleziona questa frase ed inseriscila in una cornice nera ondulata quindi non continua in base al seguente procedimento questo è un po' più dura comunque bisogna andare su vediamo formato dobbiamo bordi eccolo qua bordi e sfondo e qui lavorarci un po' su questi su queste finestre intanto mi parla di cornice ondulata eccola qua non so se è doppia o singola no singola posso anche colorarla di rosso aumentare anche un attimo lo spessore ah si aumento lo spessore qui c'è un'anteprima di quello che verrà faccio ok ed ecco ottenuto il mio stampa l'esercizio su una sola pagina esclusi l'istruzione in base al seguente procedimento questo è utile perché spesso non stiamo attenti e stampiamo anche pagine in più tanto andiamo a vedere sull'anteprima di stampa come c'è scritto qua poi andiamo a prenderci qui 3-4 pagine per vedere come appare l'esercizio ecco quindi sono su due pagine no poi devo ridurre questa non la stampo devo ridurre queste due andiamo a controllare cosa mi chiede l'istruzione clic su riduci di una pagina e poi su file stampa allora riprendiamo qua qui c'è il tasto riduci di una pagina e automaticamente ho ottenuto quello che volevo come ha fatto cosa ha fatto il computer semplicemente ha diminuito la dimensione dei vari caratteri in modo proporzionale adesso andiamo su file stampa stare attenti a questo perché se non l'abbiamo settato bene parte la stampa automaticamente magari se abbiamo cento fogli vogliamo stamparne solo uno succede un disastro allora file stampa e qui gli devo ordinare intanto ordinare la stampante giusta che nel caso della nostra scuola è questo è questa vabbè perché non c'è in quanto sono a casa ma comunque è quella non tutte le pagine ma la pagina 2 e poi con ok mi parterebbe la stampa che però io non faccio partire a nulla niente mi sembra che l'esercizio sia finito e ringrazio per l'attenzione